Nell'anno in cui Aldo Giuffre avrebbe spento 100 candeline, nel giorno in cui gli è stata intitolata la scalinata che collega via Donizzetti e via San Felicia, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare l'attore napoletano con una lettera indrezzata alla vedova Elena Pranzo Zaccaria. Qui vicino al 93 c'era l'ultima casa di Aldo dove viveva la madre e quindi sono felice perché meritava questo grande riconoscimento essendo stato un grande grandissimo figlio di Napoli, di questa città. A svelare la targa insieme alla moglie di Giuffre il vice sindaco di Napoli e assessore alla toponomastica Laura Lieto. Onorare la memoria di un grande attore, un grande artista, un autore, lui ha fatto tutto, Aldo Giuffre ha fatto tutto nel teatro italiano, nella televisione, nella radio ed è una parte fondamentale della cultura di questo paese, del modo soprattutto con cui la cultura alta è stata resa accessibile al grande pubblico. Presente anche Clementina Cozzolino, presidentessa della Quinta Municipalità. Rendiamo omaggio ad un grande artista che è vissuto in questo territorio meraviglioso e noi abbiamo il dovere di rendere onore a quella che è stata un'arte straordinaria che lui ha lasciato. E questa scalinata in particolare, quindi una scalinata importante da cui si può ammirare un panorama straordinario del Golfo di Napoli ed è vicino a degli istituti scolastici. Anche questo è importante, quindi che ci siano i ragazzi e l'impegno di fare memoria.